Lunedì di fuoco, prova del 9, ora X, chiamatelo come volete ma il dato è 1. Oggi si metterà fine in consiglio al governo Foti. Entrambe le soluzioni ipotizzate infatti porteranno comunque a questa soluzione, sia se si raggiungeranno i numeri per una sfiducia e sia se il sindaco riuscirà nel suo progetto sulle larghe intese. Questo perché alla base del patto di fine consigliatura sul tavolo saranno presentate le dimissioni del sindaco. Prima ancora delle dimissioni del primo cittadino arriveranno in aula quelle degli assessori a cui Foti, proprio in vista di un governo di larghe intese, e il successivo rimpasto ha chiesto di fare un passo indietro. Terminare la consigliatura nel 2017 in tempo per tornare alle urne in primavera, questa la condizione sine qua non di quelle forze di opposizione che si sono mostrate possibiliste rispetto a un governo di larghe intese. Tutto sarà deciso sul filo del rasoio. Attualmente sembra difficile che il documento presentato dagli otto dissidenti trovi l'appoggio di altri nuovi consiglieri. Ma è altrettanto difficile prevedere chi tra gli indecisi sosterrà la proposta del sindaco, che leggerà il suo progetto in aula questo pomeriggio alle ore 18.30. Proprio per fare questa verifica, un'ora prima che l'aula si riunisca, ci sarà una nuova riunione della maggioranza. 17 le firme che entrambe le fazioni dovranno guadagnare, tante le incognite come la spaccatura interna, erpina di base e i troppi consiglieri indecisi. Quali sono allora i numeri ipotizzabili in consiglio? I sostenitori di Foti o comunque dell'alternativa da lui proposta sono i consiglieri Livio Petitto, Franco Russo, Laura Nargi, Geppino Giacobbe, Ida Grella, Mario Cucinello, Adriana Percopo, Domenico Palumbo, Francesco D'Argenio, Enza Ambrosone, Silvia Modeo, Lorenzo Tornatore, Inbili Codino Preziosi e Virgilio Cicalese. Chi voterà contro la fine del governo cittadino? Gianluca Festa, Antonio Genovese, Massimiliano Miro, Francesca Di Orio, Giuseppe Negrone, Salvatore Cuciniello, Francesca Medugno, Gerardo Melillo, Nadia Arace, Giancarlo Giordano, Alberto Bilotta, Raffaele Pericolo e Carmine Montanile. Gli indecisi e a questo punto lago della bilancia sono i consiglieri Nicola Poppa, Barbara Amate di Cemfalda Galluccio e Monica Spezia. L'ordine del giorno quindi prevede oltre al discorso del sindaco anche la discussione del documento di Festiani e D'Ameliani. Quel che è certo è che la votazione sarà dir poco movimentata e sarà decisa da possibili assenze e astensioni. Mentre continua la diatriba tra la Scuola dei Sanctis e la provincia per l'Università del Vino, il biennio specialistico di enologia potrebbe approvare a Benevento. Anzi, la cosa sarebbe praticamente fatta. Nei giorni scorsi il sottosegretario Umberto del Basso De Caro si è recato al ministero con il rettore dell'Università Federico II di Napoli e la notizia è emersa a Torrecuso nel corso di un convegno che si è tenuto ieri sera. Tra i due litiganti il terzo gode. È così che rischia di finire questa storia. La provincia di Avellino a dicembre scorso ha finanziato un progetto da 8 milioni di euro con la gara internazionale per l'assegnazione dei lavori per il polo enologico di eccellenza al fine di completare il corso di lauree in enologia e viticoltura e ampliare l'offerta formativa con dottorati di ricerca e laboratori in patologia chimica e agraria. Il progetto è caratterizzato dal potenziamento dei laboratori di Palazzo De Sanctis, dal restauro degli edifici che costringono la zona ovest delle colture vitivinicole e la creazione di un ipogeo, costruzione sotterranea, nella zona di collina Solimene, da adibire a bottaia, cantina e sala convegni. Il tutto finalizzato a portare ad Avellino il corso universitario completo. Ma prima che comincino i lavori, non c'è tra l'altro ancora una data certa, il dirigente dell'Agrario accusando la provincia di non aver coinvolto il suo istituto nel progetto si è rivolto al Tarra. I suoli sono di proprietà della scuola, ha precisato Caterini, e nessuno può immaginare di fare ciò che vuole senza interpellarci. Il tribunale amministrativo gli ha dato ragione e la provincia si è rivolta al Consiglio di Stato e tra un ricorso e l'altro Benevento fa i fatti aggiudicandosi il bienio specialistico. Le liti non hanno mai portato a nulla di buono e anche in questo caso sarà così. Basta vedere in che condizioni sono le mura di contenimento dei terreni dell'istituto di Sanctis che stanno cadendo praticamente a pezzi, rappresentando tra l'altro anche un pericolo per i pedoni che camminano lungo i marciapiedi. Forse sarebbe meglio mettere da parte carte bollate e fare tutti un passo indietro e non perdere quest'occasione sarebbe un'ennesima sconfitta per l'Irpinia. Non possiamo perdere anche quest'opportunità. Il sindaco Foti resta a galla, spettatore di un siparietto in Consiglio Comunale del tutto inaspettato che ha spiazzato gli stessi attori. Ma procediamo per gradi, ripercorrendo le tappe essenziali della seduta di Consiglio sciolta a mezzanotte dopo cinque ore e mezzo di discussione. Pochi ma significativi punti apicali della seduta a sfondo politico di ieri sera. Partiamo dalla lettura della relazione letta dal sindaco in cui Foti da un lato ha sottolineato le zavorre che hanno appesantito il suo mandato, includendo anche le responsabilità in testa al suo partito, dall'altro elencando i risultati positivi della sua amministrazione. Il passaggio nel quale il sindaco ribadisce l'azzeramento della giunta e che ritiene chiuso il suo mandato precede la richiesta all'opposizione di un patto di fine consigliatura, elencando dei punti comuni su cui lavorare per strappare via la città dalle sabbie mobili in cui sta affondando. Bonifica dell'ex isochimica Dogana, Eliseo, centro storico urbanistica, riqualificazione di Piazza Castello, progettazione e fondi europei, centro per l'autismo. Un'agenda consistente redatta dal sindaco a cui l'opposizione, per voce del capogruppo, la svolta inizia da Tedino Preziosi, ha concesso 100 giorni per verificare che ci siano le condizioni per essere attuata. Mano tesa dunque da parte dei nove della minoranza che hanno sfidato, e qui uno dei passaggi cruciali della seduta, gli otto dissidenti firmatari del documento di sfiducia all'ordine del giorno, presentando a loro volta un'altra mozione. Il concetto è, se avete il coraggio, firmate voi questa mozione, presentata come da regolamento. Il gesto secco e provocatorio di Preziosi ha innescato una serie di lanci e rilanci. Una partita di poker che ha visto festa agli altri consiglieri dissidenti a esprimere la volontà di redigere una mozione di sfiducia unitaria, presentarla al Consiglio e votarla. Seduta sospesa e lunga pausa di confronto. Nove consiglieri di opposizione e otto di maggioranza. I numeri per far cadere il sindaco c'erano tutti. Evidentemente era la volontà a non esserci. Dopo il lungo confronto è venuta a meno la possibilità di un'intesa. Pomo della discordia, un passaggio del testo condiviso, quello sulle responsabilità del PD in tutta questa storia. Festiani e Dameliani si sono opposti e allora, dopo una lunga pagina di interventi, che si sono portati fino alle 24, tutti a casa. Le emozioni sono rimaste due, distinte e separate, sulle quali si proverà ragionare in vista di una nuova seduta di Consiglio ancora da calendarizzare. Tutto questo sotto gli occhi esterefatti e a tratti atterriti del pubblico in aula. Veti incrociati sulla mozione di sfiducia al sindaco Foti, lo scontro tra opposizione e dissidenti ha tenuto alta la tensione in Consiglio Comunale. Critico il consigliere preziosi sull'operato di festa e gli altri consiglieri che hanno presentato il documento inserito nell'ordine del giorno alla ricerca di una condivisione su un testo unico festa che sottolinea i numeri ci sono, seguita da Nadio Arace che dichiara lavoreremo sulla proposta. Quando si vuole fare qualcosa con l'opposizione, si chiama il responsabile dell'opposizione e si dice vogliamo elaborare. Siccome l'ordine del giorno con tutto il rispetto e senza che nessuno si offenda, non è niente, è una presa d'atto di quello che il sindaco ha dichiarato all'inizio. Quindi noi stiamo parlando di cose sulle quali il sindaco aveva già detto che archiviava i suoi tre anni di amministrazione e il suo programma, dandomi indirettamente anche una ragione politica sul mio programma elettorale. Allora parlare ancora della stessa cosa sarebbe stato inutile e assurdo. La novità vera è che noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia che quando si è mandata là dietro gli altri non l'hanno voluta firmare. Allora a questo punto io vorrei capire se vuole mandare a casa il sindaco, sì, allora perché non si firma? Non è che si può pretendere che dalla mozione di sfiducia si tolga la parte di responsabilità che viene attribuita al Partito Democratico. Noi stiamo all'opposizione di un partito dove loro fino a ieri hanno votato, hanno militato e hanno alzato le mani per quel partito. Noi siamo dell'avviso, e quando dico noi parlo di otto consiglieri che appartengono al PD e di nove che appartengono invece alle opposizioni, siamo dell'avviso che questa esperienza debba terminare perché è stata fallimentare una sciagura come l'abbiamo già definita nei giorni scorsi. Credo che onestamente alla gente tutto interessi tranne che parlare dei partiti, ormai sono stanchi, interessa invece sapere cosa accadrà domani e c'è la speranza che Foti finalmente vada a casa. Abbiamo detto insieme, votiamo nella prossima seduta per mandare a casa Foti. Poi le premesse si potranno condividere, ognuno metterà il suo pensiero, ma questo conta poco, la gente vuole finalmente che termini questo disastro amministrativo. Su questo punto chiaramente raccogliamo in quest'Aula la disponibilità a ragionare con i nuovi due gruppi che si sono detti appunto critici e decisi a effettuare gesti conseguenti. Quindi nei prossimi giorni lavoreremo per trovare sicuramente la quadra, con l'unico obiettivo condiviso che è quello di chiudere quanto prima questa stagione amministrativa e tornare al voto in primavera. Il sindaco Foti prepara le consultazioni per il rimpasto, pausa di 48 ore dopo il consiglio di lunedì e poi si inizierà a dialogare con i capigruppo, soprattutto quelli d'opposizione a cui il sindaco ha chiesto un patto di fine consigliatura per portare avanti i capitoli importanti come bonifica, ex isochimica, fondi Europa+, tutti i progetti che resterebbero bloccati in caso di un commissariamento. Tutto questo da farsi entro il prossimo 19 di settembre data della prossima discussione in aula. Nelle attuali condizioni però sarà difficile centrare l'obiettivo in prima battuta. Il rimpasto previsto dovrebbe riguardare solo alcuni settori, cultura patrimonio e servizi sociali, anche se per qualcuno potrebbe trattarsi solo di un cambio di delega. Il quadro consigliare emerso presenta l'opposizione divisa in due da un lato preziosi palumbo e spiezia, intenzionati a sposare la proposta di Foti, alle loro condizioni ovviamente, quelle famose dei 100 giorni, e un'altra parte più radicata sul no, composta da Giancarlo Giordano, un'area lace e Udc con bilotta e pericolo. E c'è chi invece si mostra molto scettico sull'ipotesi di un'unica mozione di sfiducia corredata dalle 17 firme necessarie, sia Battista che Cicalete, si dicono convinti che il 19 in aula non accadrà proprio nulla di eclatante. Adesso mi prenderò qualche giorno per riflettere bene sugli interventi, valutarli, soppesarli, e quindi poi mi riprometto nei prossimi giorni comunque di ascoltare nuovamente il capigruppo consigliare. Ora si tratta di capire se c'è riscontro, ecco perché mi riservo di ascoltare il capigruppo consigliare, se c'è stato riscontro qual è la risposta. Lei aveva chiesto un assist a Preziosi. Io non ho chiesto nulla a Preziosi. Un assist sempre in gioco sportivo. Vi sbagliate, allora non siete stati attenti. Io mi sono rivolto all'aula, l'aula consigliare, quindi a tutti i consiglieri comunali. Poi se Preziosi ha detto determinate cose che io devo riflettere, capire bene. Non è che Preziosi era lì dietro la porta ad aspettare l'appello del sindaco di Avellino. Ha ben altro da fare, Preziosi. Ha cose molto più importanti da fare. Quindi devo verificare e guardare a tutte le posizioni in campo. Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Avellino, Fulvio Fraternali, lancia un allarme sulla sicurezza degli edifici privati. La nota inviata arriva all'indomani dell'intervento dell'Associazione dei Costruttori Edili della provincia sul tema della sicurezza degli edifici pubblici. Si è parlato in particolare di edifici scolastici e edifici pubblici, si legge nella nota che in realtà sono già oggetto di attenzione da parte dello Stato per interventi finalizzati alla messa in sicurezza e in provincia di Avellino su alcuni di questi si è già intervenuti. Oltre al fatto che alcuni edifici importanti costruiti post-sisma 80 come Comune di Avellino e Ospedale Moscati sono già adeguati. L'allarme in Irpinia e nella città capoluogo va invece lanciato per gli edifici privati, il cui 60% ha una costruzione che risale a prima dell'80. È su questi che bisogna trovare un meccanismo per intervenire. Si può pensare di utilizzare fondi e agevolazioni europei, statali o comunali sulla falsa riga del progetto Serena attivato a Napoli, che pare tra l'altro il sindaco De Magistris voglia far ripartire. La strada più ovvia e più immediata è quella di attuare modifiche normative sul PUC, modo da consentire una più agevole attuazione del piano casa, in particolare sugli edifici che non sono in sicurezza, anche in base all'appartenenza ad aree legate al rischio sissesto idrologico e a fattori che aumentano la vulnerabilità sismica. Il primo passo, condiviso anche dal Presidente De Luca, conclude Fraternali, sarebbe la stesura del fascicolo del fabbricato, concordando con le categorie professionali i meccanismi attuativi e compensativi adeguati, in questo caso ad un servizio di pubblica utilità. La richiesta va rivolta all'amministrazione comunale affinché in questi 100 giorni dia priorità a questo. L'usura colpisce 3 milioni di famiglie e fattura 82 miliardi di euro. Il dato emerge dall'indagine Eurispes, secondo la quale negli ultimi due anni circa il 12% delle famiglie si è rivolto a soggetti privati, non parenti o amici, per ottenere un prestito, non potendolo avere, dal sistema bancario. L'indice di permeabilità sul territorio vede in testa Parma. Avellino e ottava in Italia il capologo Irpino è però primo in campagna. Secondo la ricerca il fenomeno riguarda un'azienda su 10 nei settori dell'agricoltura, del commercio e dei servizi. I carnefici non sono solo le organizzazioni criminali mafia in testa, ma anche una serie di insospettabili che hanno approfittato della crisi per arricchirsi a scapito di chi è finito con l'acqua alla gula. Il rapporto segnala che se le regioni a maggior rischio restano quelle del sud delle isole, il pericolo però si sta diffondendo in maniera significativa anche al centro Italia e la provincia più esposta in assoluto, come detto, è Parma, seguita da Crotone, Siracusa, Foggia, Trapani, Vibo Valencia, Palermo e Avellino. Non è immune nemmeno il nord, visto che nella fascia di rischio medio alta ci sono anche Aosta e Biella. Le organizzazioni criminali, spiega Fara, presidente Eurispes, hanno ben compreso che l'usura rappresenta un metodo di straordinaria efficacia. Intanto, secondo la consulta nazionale anti-usura, non sorprende l'allarme rilanciato dal rapporto Eurispes sull'usura in Italia, ma destano poche perplessità alla classifica delle province italiane colpita dall'usura realizzata, secondo la consulta, da Eurispes senza una certificata metodologia scientifica. La preoccupazione della consulta viene rilevato che la distribuzione territoriale del fenomeno raccontata da Eurispes senza un solido fondamento scientifico possa determinare delle distorsioni in sede di scelte istituzionali connesse all'assegnazione dei fondi alle regioni in favore delle vittime dell'usura. Prove d'intesa tra il sindaco Foti e Dino Preziosi. Finite le 48 ore di riflessione che il primo cittadino si era concesso alla luce degli sviluppi politici emersi durante l'ultima seduta di Consiglio Comunale, la strategia è la seguente. Trovare un compromesso tra non cedere totalmente la città in mano all'opposizione e mantenere alcuni punti per Foti essenziali. Preziosi però è stato chiaro, con quella frase pronunciata nel suo intervento in risposta al sindaco, discontinuità con il passato, il consigliere della svolta inizia da te ha volutamente chiesto a Foti di estromettere il senatore De Luca dalle sue decisioni. E questo è un aspetto della vicenda politica che porterà di nuovo l'Aula a riunirsi e discutere lunedì 19 settembre. L'altra faccia della medaglia invece è composta dalle possibilità di accordo che dissidenti e alcuni consiglieri di opposizione vogliono mettere in piedi. Almeno 12 consiglieri sono intenzionati a mettere la loro filma in calcio alla mozione di sfiducia. Stiamo parlando dei componenti dei due gruppi PD Gianluca Festa, Giuseppe Negrone e Antonio Genovese per davvero democratici, Salvatore Cuciniello, Massimiliano Miro, Francesco Medugno e Gelardo Melillo per democratici per il cambiamento e della consigliera PD Francesca Di Orio. A loro si unirebbero per il sia la mozione di sfiducia e consiglieri d'opposizione UDC, Alberto Bilotta e Raffaele Pericolo, la consigliera indipendente Laliarace e Giancarlo Giordano Perselle. Per il pigna di base Carmine Montanile è più propenso a non appoggiare Foti. E siamo a quota 13 su 17. Dove prendere le altre quattro firme? E qui entrano in gioco gli incerti, sia della minoranza come Monica Spiezzi e Nicola Battista, che della maggioranza come Barbara Matic e Nicola Poppa, assenti alla seduta del 5 settembre. La conta sembra invece propendere per i sostenitori del sindaco, 14 in tutto, Livio Petitto, Ida Grella, Franco Russo, Giuseppe Giacobbe, Francesco D'Argenio, Adriana Perco, Possilvia Modeo, Lorenzo Tornatore, Enza Ambrosone, Mario Cuciniello, Mafalda Galluccio per la maggioranza. Dino Preziosi, Mimo Palumbo e Virgilio Cicalese per l'opposizione. Tre gli indecisi di cui sopra da convincere. Nel weekend il primo incontro tra i consiglieri intenzionati a far cadere Foti, summit che si incroceranno con quelli dei sostenitori del sindaco. Mentre il medico studia, il malato muore. Mentre Foti e gli altri consiglieri, che siano di maggioranza, della minoranza, della maggioranza o dell'opposizione, la quotidianità della città capoluogo se ne va a farsi benedire. Mentre si decide chi deve entrare al posto di chi in giunta, come ipotecarsi un posto per le prossime amministrative, che a questo punto vadano come vadano le cose e saranno anticipate, Avellino scivola in un tunnel sempre più profondo. E non stiamo parlando dei grandi progetti elencati dal sindaco o dal consigliere Preziosi nel corso della seduta consigliare di lunedì. Isochimica, Eliseo, Dogana, quelli camminano da soli con o senza questo o quell'assessore. Tante le questioni della città aperte che hanno bisogno di una continuità amministrativa e non a singhiozzi. Una tra tutti la più attuale perché a ridosso dall'inizio delle scuole il terminal dei bus scolastici in via Pescatori. L'amministrazione a meno di una settimana dal suono della campanella fa il di trofront e non ha ancora definito i dettagli dello spostamento da Piazza Kennedy all'area limitrofa al campus. Il provvedimento rischia dunque di arenarsi. Nemmeno l'amministratore dell'AIR, De Sio, ha avuto comunicazione dal comune. Cosa succederà, ci chiediamo ad Avellino, alla sua quotidianità, quando si cambierà di nuovo giunta? Ritornando alle questioni politiche, il nodo resta lo stesso. Quale assessore sarà sacrificato in nome della causa? Dipenderà da quali saranno gli accordi che in questi giorni che precedono la seduta di Consiglio del 19 saranno presi. Gli indoccabili per ora sembrano solo il vice sindaco Maria Elenaia Verone e l'assessore ai lavori pubblici Costantino Preziosi, sopravvissuto già a due rimpasti. Intanto lo zoccolo duro dei dissidenti continua la ricerca delle firme per la mozione. In questo weekend si incroceranno i summit tra sindaco e Preziosi e festa e opposizione. Un giro di appuntamenti dietro il quale c'è lo sfondo degli incontri tra la segretaria regionale assunta a Tartaglione e il senatore Vincenzo De Luca. Per chi è a complicare il quadro c'è anche la questione delle espulsioni dei dissidenti dal PD, voluta dai piani alti del partito di viatagliamento. Una situazione ingarbugliata con tante sfaccettature che non fa altro che penalizzare i cittadini, gli stessi che in primavera potrebbero ritornare alle urne. Delitto seriate arrivano le prime smentite della versione fornita agli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Gianna Del Gaudio, la professoressa vellinese in pensione uccisa nella sua villa a coltellate nella notte tra il 26 e il 27 agosto. Le prime contraddizioni arrivano dall'occhio della telecamera posizionata fuori dalla villetta. I uomini del RIS hanno visionato le immagini immortalate ma non c'è alcuna presenza dell'uomo incappucciato che il marito Mario Tizzani, unico indagato nell'inchiesta, avrebbe visto scappar via. A questo si aggiunge un altro elemento che contribuisce quantomeno ad insinuare qualche dubbio in più. Secondo i vicini ascoltati dai carabinieri di Bergamo, i due coniugi avrebbero avuto una lite dopo la mezzanotte, con toni alquanto concitati. 20 minuti di discussione, poi il silenzio. L'ex capo stazione ha sempre negato un litigio con la moglie, sostenendo che i toni tra i due fossero sempre accesi come carattere, ma non quella sera in particolare. Intanto i RIS hanno prelevato dalla villetta di Piazza Madonna delle Nevi tutti i coltelli. Il marito di Gianna Del Gaudio ha riportato che dal sopralluogo effettuato tra i casalinghi non manca alcun utensile da taglio. Alcune di queste lame potrebbero essere compatibili con la ferita mortale inferta dalla professoressa. Dov'è finita l'arma con cui è stata uccisa Gianna Del Gaudio? È uno degli interrogativi che si stanno ponendo a due settimane esatte gli inquirenti. Crisi al comune di Avellino sono ore di attesa, di fibrillazione, di discussioni ma anche di silenzi come quello di Gianluca Festa, di Davvero Democratici e di Dino Preziosi, consigliere della svolta inizia da te e propositore insieme ad una parte di opposizione dell'ipotesi dei 100 giorni. Non ribadiamo solo una parte della minoranza perché lo zoccolo duro degli oppositori composto da Giordano, Arace e Udc, ha ribadito sia in consiglio che in altri sedi il loro no alla proposta dei 100 giorni. Quindi ora, dopo la spaccatura della maggioranza, si registra anche quella tra i consiglieri di opposizione. Nella giornata di lunedì ci sarà un incontro tra foto e preziosi già previsto per questo weekend ma rimandato. Sembra che siano sorti dei problemi sul numero e sui nomi degli assessori. Ci sarà invece il faccia a faccia tra Festa e Giordano nel fine settimana. E proprio stamane il consigliere di sinistra italiana ha voluto incontrare la stampa per discutere della vicenda politica che si sta consumando al comune e per ribadire il suono a preziosi e foto. Io, come altri seduti all'opposizione, mi sono candidato sia contro foto sia contro preziosi. Quindi diciamo l'opposizione è variegata per natura, essendo costituita dagli sconfitti vorrei dire. Dopodiché c'è una proposta in campo. Vorrei dire a preziosi che sarebbe il caso di mettere fine a questi rinvii continui, a questa confusione che monta e farci capire se le due condizioni che lui ha posto, cioè i 100 giorni e l'azzeramento della Giunta, sono stati o meno accettati dal Sindaco. Mi pare strano che ponendo una questione, dicendo in 100 giorni facciamo tutto, poi si perdono settimane per capire se quei 100 giorni si possono utilizzare o meno. Questo mi sembra una sciocchezza. Io sto lavorando per sommare quelle 17 firme e ricordo a chi ha firmato l'uno o l'altro documento che siamo di fronte alla città messi in chiaro. Ognuno di noi è di fronte alla città con le proprie responsabilità. Continuare a fare giochetti non è più praticabile per nessuno. La sua villa di Piazza Madonna della neve due settimane fa, nella notte tra il 26 e il 27 di agosto. 25 minuti di buco da ricostruire. Cosa è successo nell'asso di tempo dalla fine della lite alla morte di Gianna? La prima domanda a cui Primo Grado cerca di dare ipotetiche soluzioni. Poi la ricostruzione dei fatti seguendo le indagini dei RIS di Bergamo. Dal giallo sulle motivazioni all'iscrizione del marito di Gianna, Antonio Tizzani, nel registro degli indagati, a sequestro dei coltelli utilizzati in cucina. Occhi puntati soprattutto sugli sviluppi delle ultime ore e cioè le contraddizioni del marito dell'ex professoressa e il racconto della nuora Elena sulla presenza di un uomo incappucciato, non rilevate però dalle telecamere di videosorveglianza esterne alla casa. Proprio alla medesima trasmissione Mediaset, la nuora di Gianna del Gaudio aveva svelato la presenza di un uomo incappucciato che da qualche giorno molestava con citofonate notturne nella sua famiglia. E qui il dubbio è lecito perché la nuora ne parla solo ora. La stessa nuora smentisce la versione dei vicini sulla lite avvenuta dopo la mezzanotte tra i due coniugi. Sul fronte delle indagini intanto si cerca la svolta dalla ricostruzione dei movimenti avvenuti in casa quella sera. Come si è mosso l'assassino e dov'era il marito? Sono le domande a cui RIS di Parma sono pronti a dare risposta grazie agli esiti da ispezione, ovvero l'analisi scientifica della posizione di alcune tracce di sangue riscontrate sulla scena dell'omicidio. Servirà invece più tempo, si stima circa tre settimane, per arrivare ai primi risultati di natura genetica. La scorsa settimana durante il loro sopralluogo nella casa di Piazza Madonna delle Nevi Esteriate, i carabinieri avevano infatti prelevato diversi reperti, coltelli, indumenti, oggetti e suppellettili. E poi avevano rilevato alcune tracce sul pavimento, sulle pareti della cucina, nel giardino e sulla recensione della casa. In particolare l'attenzione è stata puntata su quattro macchie ritenute importanti. Una è stata trovata sulla recensione sul retro della villetta a destra del cancello, da dove sarebbe passato, stando al racconto di Tizzani, lo sconosciuto per scappare. Le altre tre sulla borsetta della vittima, oltre al sangue, ci sarebbero infatti anche delle improde digitali.